La mostra è fino al 20, dal 12 al 20 di agosto, espressioni cromatiche e il titolo. Sono in mostra circa 15 opere, chi mi conosce sa anche un po' qual è il mio stile, sempre una fusione tra pittura e scultura, è una tecnica che sto portando avanti, sto approfondendo ormai da diversi anni e che un po' mi contraddistingue rispetto a quello che è la mia cifra stilistica. Dunque, ehm...